Ciao bambini, oggi faremo insieme un supereroe con lo secco del gelato. Ci occorreranno cartoncini colorati, colla, forbici, pennarelli e lo secco del gelato. Cominciamo ritagliando il mantello nel cartoncino colorato. Quando abbiamo finito, ritagliamo il rettangolino che useremo per fare la mascherina, poi mettiamo della colla nello secco, poi incolliamo il mantello nello secco del gelato. Coloriamolo poi con un pennarello. Con la colla attacchiamo anche la mascherina dopo averci disegnato sopra un paio di occhi. Ora possiamo disegnare la S di supereroe sullo secco o se volete l'iniziale del vostro nome. Questi sono i nostri supereroi. Questi sono i nostri supereroi.